Siamo sull'altro Skidit Risaccia Adesso utilizziamo degli utenti dell'altro Skidit per capire se vanno più veloci, va più veloce uno dei due o se sono vestiti molto uguali Sperando che non ci siano fermati rallentamenti Sperando che non ci siano fermati Sperando che non ci siano fermati Sperare di Det conscienza Ok, potrei appurare che vanno alla stessa velocità È meglio, no Fabio? Grazie.